Finanziarie e bilancio in aula Il bilancio di previsione della Regione Piemonte e la legge finanziaria sono stati approvati in aula con i soli voti della maggioranza nella seduta notturna del 3 maggio al termine della discussione con i tempi contingentati. Tra i contenuti principali del provvedimento, che prevede risorse per oltre 11 miliardi, 386 milioni e 558 mila euro, l'aumento dell'addizionale IRPEF. Nel dibattito, ampio spazio è stato dedicato a sanità, trasporto pubblico locale, politiche sociali e cultura. Novità per il Centro Studi Architettura Militare Riduzione dei membri del Consiglio di Amministrazione del Centro Studi Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte, con sede nel Forte di Exil e nuove modalità di nomina dei rappresentanti. E quanto prevede la modifica alla legge regionale 48 del 1992, approvata il 26 aprile dalla Commissione Cultura, riunita in sede legislativa. Il Consiglio di Amministrazione del Centro Studi passa quindi da 19 a 5 membri, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Premio Gianni Oberto La Biblioteca della Regione Piemonte, Centro Gianni Oberto, con sede presso Consiglio regionale, bandisce il concorso Premio Gianni Oberto per l'edizione 2013. L'iniziativa vuole promuovere la cultura piemontese e la valorizzazione della sua storia. Il concorso è riservato a laureati in discipline letterarie e umanistiche presso le università piemontesi. Il bando e il regolamento sono consultabili su www.cr.piemonte.it. Maggio dei libri Dal 6 al 21 maggio ritorna l'iniziativa per riscoprire il piacere di leggere, il Maggio dei libri. Promossa a livello nazionale dal Ministero dei Beni Culturali, in Piemonte coinvolge la Biblioteca della Regione, la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, il Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia di Palazzo Barolo. Libri di editori piemontesi vengono presentati su un tram storico che percorre il centro di Torino e le biblioteche ospitano conferenze su temi specifici. Il programma completo sul sito del Consiglio regionale. Dalla carrozza all'aereo Dal 3 all'11 maggio sarà aperta al pubblico nella Biblioteca Civica di Vigliano a Biellese la mostra sui mezzi di locomozione usati dai piemontesi. L'esposizione, curata dall'Associazione per la Fotografia Storica e promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, è composta da una cinquantina di scatti e documenta i cambiamenti avvenuti nei trasporti e nei viaggi dal 1861 al 1961. Grazie a tutti!